Rischia di perdere la casa all'asta e per giunta al ridosso del Natale la teramana Clara Terribile che questa mattina si è incatenata davanti al tribunale di Teramo per protesta. Lei molto nota per essere una donna anche di forte personalità con un passato da scrittrice, stilista e per aver attivato corsi di formazione professionale si ritrova a rischiare di perdere la sua unica casa che si trova a Mosciano il 16 dicembre perché non è riuscita più a pagare il mutuo pur avendo saldato le rate per l'80%. È una vicenda che la sta provando anche da un punto di vista fisico e psicologico? Sì io non dormo da un mese più, mangio pochissimo, sono dimagrita 4 kg perché sto sempre e ho paura di sentirmi male e ci diceva poco fa io mi vergogno anche a stare qui perché non l'avrei voluto fare ma lo faccio anche per lanciare un messaggio ben preciso. Questa è un'azione che lede un po' la mia dignità che ho sempre avuto nel lavoro, nel sociale, ho fatto tante cose ma lo faccio anche per chi non ha voce, per chi magari non ha la possibilità di pagare un avvocato e di difendersi e va a finire mezzo alla strada o dentro alla macchina. Io non voglio finire così, ho fatto tante cose, a Teramo ho creato una scuola di formazione professionale nel 78, 32 anni di scuola più tre anni di scuola pubblica da dove mi sono dimessa per motivi che adesso non sto a dire e mi sono creata questa mia attività e ho dato lavoro a tanta gente, a tanti ragazzi, bisogna lottare per le cose ingiuste che avvengono da parte di tribunali e banche, assolutamente. Ogni giorno in Italia vengono vendute all'asta mille case, è un fenomeno sociale molto serio? È un dramma sociale di proporzioni bibliche direi, cioè nel senso che ci troviamo di fronte ad un dramma collettivo che è totalmente ignorato, questo è che fa rabbia, è totalmente ignorato dalla politica. Cioè oggi, oggigiorno, noi abbiamo, se pensiamo che in una casa ci sono 4-5 persone, va bene, abbiamo centinaia di migliaia di persone che ogni giorno vengono sfrattate. Parliamo di prime case. Lei deve pensare che se la signora Clara dovesse, diciamo, subire la vendita all'asta giorno 16, lei nel giro di 10 giorni Natale lo dovrà fare fuori casa. Non c'è storia, cioè con le norme che noi abbiamo oggi, questo è il punto centrale. Noi ci dobbiamo battere per cambiare la normativa.